Sindaco, lo scorso 22 luglio una tragedia che ha colpito l'isola di Capri, ma anche tutti noi purtroppo l'incidente col bus e l'autista, il giovane autista che ha deceduto. Certo, è stato un fatto molto grave, molto rattristato, innanzitutto per Emanuele che non c'è più, un bravissimo ragazzo che si dedicava anche al volontariato, non si è perso molto per bene. E poi per tutti i fetici sono stati, anche bambini, persone, è una situazione che ora fortunatamente stanno migliorando e quindi praticamente siamo più contenti. Si è aperta una fase diversa e bisogna ora capire cosa è successo, c'è un'indagine della magistratura che sicuramente verificheranno le responsabilità e sicuramente prenderanno i loro provvedimenti. Sì, abbiamo tramite fonti dell'ASL, Napoli 1 Centro, saputo che fortunatamente chi è ancora ricoverato ma è fuori pericolo. Sì, stanno andando avanti, le situazioni stanno migliorando, quindi da questo punto di vista non abbiamo nessun, insomma, siamo meno preoccupati e più contenti che le cose stanno migliorando. Sono arrivati subito i soccorsi anche da Napoli attraverso l'elisoccorso, però purtroppo non c'è stato nulla da fare. No, innanzitutto, diciamo, sono stati i concittadini di Capri, insomma i capresi, sono subito intervenuti immediatamente, le forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Capri Porto, Protezione Civile, i vigili urbani, tutti sono intervenuti immediatamente, i vigili del fuoco, tutti sono intervenuti immediatamente. Sul posto c'è stata questa grande cooperazione con l'ASL che immediatamente, diciamo, attraverso l'intervento del direttore Verdoliva hanno spostato elicotteri personale sull'isola per il pronto soccorso che è stato il punto di nevlaggio che ha retto benissimo. Quindi sono rientrati anche i medici capresi sul posto, quindi praticamente, diciamo, insomma, penso sia stato un grande risultato che ha dato una possibilità di limitare al massimo, diciamo, i danni alle persone su questa situazione. È stata fatta l'autopsia e poi, come diceva lei, la magistratura vorrà vedere anche poi lo stato della vettura che è ancora lì, dove c'è stato l'incidente, ricoperta da un telo alle spalle del Lido Ondina. Sì, certamente, ora l'amministratura fa i suoi passi, le sue cose e quindi praticamente, diciamo, ci saranno, diciamo, degli ulteriori sviluppi probabilmente. Ora si sta valutando con i vigili del fuoco, in particolare, come togliere di lì, diciamo, il mezzo e probabilmente sarà tolto attraverso, insomma, un intervento di un elicottero, insomma, più, insomma, capace di risposta. Il mezzo è stato in un punto delicato, però questo aspettiamo nei prossimi giorni, indicazioni anche della magistratura che valuterà e autorizzerà eventualmente lo spostamento. È vero che c'è anche l'ipotesi di dividerlo in più pezzi? No, queste sono valutazioni che faranno, torno a ripetere, faranno le vigili del fuoco, insomma, e poi la magistratura, il magistrato, deciderà cosa bisogna fare. Questa è una valutazione che faranno loro. Sindaco, ora l'attenzione c'è anche su quella ringhiera che non ha retto l'urto? Ma quella non è una strada a scorrimento veloce, è una strada, diciamo, che si cammina molto lentamente, quindi, diciamo, ora bisogna vedere se tutto questo era, diciamo, proporzionato o meno. Queste sono cose che, insomma, onestamente non possiamo noi valutare, insomma, sono cose che valuteranno i tecnici, insomma, è un discorso ancora da scrivere, questa. Un'ultima considerazione, c'è stata una lettera congiunta dalla parte del Comune di Capri e di Anacapri alla città metropolitana, perché pare che dal giorno dell'incidente stiano circolando meno autobus. Sì, abbiamo posto un problema, perché noi abbiamo un grande disservizio, siamo ad agosto, abbiamo centinaia di persone in mezzo alle strade, dobbiamo avere un servizio efficiente, in questo momento non c'è, abbiamo difficoltà file, diciamo, orari che non si rispetta, abbiamo delle difficoltà, abbiamo posto un problema all'area metropolitana che compende su questa cosa di valutare anche se fosse necessario di prendere i provvedimenti sull'azienda, cioè devono intervenire e mettere un punto per questa situazione, in un modo o nell'altro. Possiamo continuare ad avere un servizio carente in queste dimensioni, anche perché abbiamo fatto uno sforzo, punto di vista immediato, per cercare di portare questa situazione avanti e poi ci troviamo in queste difficoltà. Sindaco, ma questi autobus che circolano il meno, l'azienda vuole verificare il loro stato, è possibile che sia questo il motivo? Non ho idea che cosa, perché le hanno ritirate, evidentemente avranno, diciamo, fatto delle valutazioni, probabilmente non sono idone, questo non lo so e non lo posso dire, anche perché noi non siamo l'ente che dà le autorizzazioni all'azienda per poter circolare, viene fatto questa nota congiunta, ponendo un problema in maniera ultimativa e ora la metropolitana si assumerà la propria decisione su questa situazione.